allenamento misto dei giovanissimi esordienti e allievi fa freddo mi pare ci troviamo zero gradi o meno uno c'è ancora residuo di neve ma più più c'è il ghiaccio i nostri ragazzi ecco michele michele attento michele salta la pozzanghera una scampatura proprio giusto per sgranchire le gambe anche perché il campo non lo permette ci sono porzioni di ghiaccio si sta utilizzando la metà del campo ecco sono i nostri allievi e giovanissimi ecco michele che chiude la michele che chiude la fila come va michele ecco il nostro mister abbiamo una partita un big match domenica in casa contro la valle aventino dopo c'è da recuperare la gara di domenica scorsa con a san buceto e dopo la prossima domenica già abbiamo un altro big match con il 1920 lanciano calcio ecco i 4 ecco pure don dino michele la giornata è fredda si può dire o zero gradi o meno uno non lo so i nostri ragazzi si preparano per ben figurare nella gara di domenica sperando che si liberi il campo dalla neve grazie 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 grazie